Sindaco, in questi giorni è stata pubblicata online la determina che assegna gli incarichi a diversi professionisti che si recuperano della messa in sicurezza delle zone colpite dal dissesto idrogeologico. Cosa puoi dirci, come è iniziata e qual è la situazione attuale? Dal 2020, dal momento del mio insediamento, il problema del dissesto idrogeologico, soprattutto della collina nord di Chieti, è iniziato con la risoluzione del problema della demo ricostruzione del Palazzo Trinchese in via Don Minzoni. Nell'arco di questi due anni altri condomini, altri palazzi sono stati interessati da problematiche strutturali per cui ho deciso di iniziare una interlocuzione fattiva, oggettiva con la protezione civile regionale e con l'università, con la facoltà di geologia, ebbene abbiamo messo in opera una task force che fa capo al quinto settore del comune, cioè dei lavori pubblici e il dirigente ha emesso online una determina con la quale assumeremo cinque professionisti tra architetti, geologi, geometri e ingegneri, coordinati dal RUP dottor Tommaso Colella, ingegnere appartenente sempre al quinto settore, e vaglieremo ancora di più il monitoraggio e le opere da fare in questa zona di Chieti, fragile, vulnerabile da un punto di vista idrogeologico, dell'assetto idrogeologico, in maniera tale da metterlo in sicurezza per la sicurezza di tutti i cittadini, soprattutto quelli che risiedono in questa zona.